Ciao, sono Giacomo Baranzini, da oltre 20 anni mi occupo di Immobiliare Varese. Oggi vi porto a Lissago, una piccola frazione sul lago di Varese, a visitare una splendida villa che ha una dotazione impressionante, una piscina di 12 metri e un parco di circa 2000 metri quadrati. Adesso vi faccio vedere subito la piscina che è il pezzo forte veramente di questo immobile perché stiamo parlando di una piscina che ha una dimensione tale da poter veramente nuotare e non solo fare due bracciate come spesso succede nelle piscine più classiche e tradizionali. Ci sono varie dotazioni come una cisterna anche per il recupero dell'acqua piovana che è diventata di grande attualità oggi. Sopra vedete la villa che è originaria degli anni 70 più un ampliamento che risale al 2005. Ora vi porto a visionare la parte della terrazza da cui si gode una bellissima vista a lago. Saliamo da questa scalinata dove abbiamo un piccolo orto e una zona di barbecue. C'è una parte di spazio dedicato al pranzo estivo e anche un bellissimo spazio interno che comunica poi col giardino con queste grandi vetrate e può essere tranquillamente usato magari nel periodo invernale durante una bella nevicata e vedete sulla sinistra una zona di preparazione più che altro di polente o altri cibi invernali che ben si adattano a questo spazio. Ora saliamo a vedere la terrazza. la dotazione di un box doppio e di due posti autocoperti. eccoci su questa grande terrazza da cui vedete il lago e dalla quale poi nel periodo chiaramente invernale quando cade il fogliame la vista si apre ulteriormente. Si vede tranquillamente la catena del rosa e dei bellissimi tramonti. Adesso sono le 12 quasi meno 10 quindi potete anche capire qual è l'esposizione della casa è assolutamente ottimale. Vi aspetto in ufficio per spiegarvi gli interni di questa splendida villa e fissare un appuntamento per venire a visionarla. A presto! Grazie! 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 Grazie!